benvenuti alla nuova tweet cam di panasonic oggi il prodotto consigliato è la nike questa scarpa è veramente eccezionale mentre cammini la scarpa rimbalza galleggia e come se mancasse la forza di gravità alleggerisce molto il cammino è un'ottima scarpa questa è un prodotto consigliato da rob il comico se devi fare un acquisto di natale compra le nike sono belle questo modello li abbiamo approvate anche nel centro commerciale e anche nel cimitero di monserrato provato a camminare con queste scarpe il cammino leggero è come se mancasse la forza di gravità è un fatto consigliato a rob il comico anche questo è un ottimo prodotto come scarpa però quella è migliore quella gialla quella gialla è un prodotto di un prodotto di altissima qualità della nike il prodotto tiene i piedi più più caldi d'inverno e freschi d'estate perché è sempre il dispositivo di aria condizionata nei piedi funziona veramente il prodotto però alleggerisce il cammino quindi voi camminate non avete il problema di avere i piedi stanchi questa scarpa alleggerisce rimane un po sospesa per terra un po sospesa camminando quindi come se mancasse la forza di gravità nike ha voluto costruire questo prodotto questa scarpa eccezionale bella modernisca elegante sportiva nike come vediamo il prodotto veramente molto bellino consegnata da rob il comico questa bellissima scarpa di color giallo esclusivo modello rispetto al modello precedente che era questa qui la precedente scarpa questa scarpa camminando come non vi stanca i piedi potete fare anche 50 chilometri a piedi io ho fatto 50 chilometri a piedi con un paio di scarpe nike di quel modello non si sono stancati i piedi è una scarpa eccezionale poi camminando anche discesa avete una scarpa molto spinta bella elegante sportiva molto bella nike prodotto consigliato da rob il comico mentre passiamo all'altro tipo di scarpa più conveniente questa costa molto meno di quella questa scarpa completamente bella anche questa galleggia è come se avessi ammortizzatori la scarpa è belina ma ammortizza in più la scarpa c'ha l'aria controllo dentro quindi aria qui entra e per l'estate questo modello ma va bene anche per l'inverno è ottima come scarpa però io sceglierei più quella quella è una scarpa meravigliosa l'abbiamo approvata abbiamo fatto le prove nel cimitero di monserrato la scarpa è ottima camminando rimane sospesa nell'aria camminando qui se uno cammina più un po velocino la scarpa rimbalza è molto bella se dovete fare un acquisto per natale io vi consiglio di comprare un paio di scarpe nike color giallo se le trovate qui in sardegna questo modello si trovano i migliori negozi che vengono nike anche a monserrato mentre passiamo a questo tipo di scarpa nike il modello è bello anatomico sempre sportivo però è questa scarpa anche questa c'è il dispositivo comoda leggera non stanca i piedi camminando potete fare anche con questa 50 chilometri i piedi non si stancano mentre questo è il modello normale di nike che è uscito quest'anno però tipo il modello dell'anno scorso comoda anatomica riposa i piedi anche questa c'è all'aria contro l'aria maxi che è un dispositivo che ti mantiene i piedi caldi di test d'inverno e freschi d'estate in ultimo investimento comprare un paio di scarpe nike sono molto belle come modellino le abbiamo provate ottime anche queste prodotto consigliato da rob il comico compra nike per natale è un ottimo investimento la scarpa non fidate le limitazioni non comprate prodotti cinesi comprate prodotti originali gli originali sono migliori vi garantiscono i piedi belle ben stabili e i piedi bene veramente asciutti perché hanno dispositivo di aria maxi come vediamo aria maxi torniamo alla famosa scarpa che sto che sto consigliando a tutti a natale voi comprate delle scarpe si da cinesi qua sono veramente belle sono le nike ma siamo convinti che siano le originali queste sono le originali scarpe della nike sono migliori voi dovete camminare le scarpe non vi stancano potete fare 50 chilometri a piedi queste scarpe sono bellissime è un prodotto consigliato da rob il comico aria maxi sono bellina ci sono di vari colori anche rosa vari tipi di colore blu color jeans vari tipi ma questo colore guarda veramente bellissimo nike con la nike tu cammini e non ti stanchi te lo consiglia rob il comico grazie di avermi seguito in questo youtube